...e cittadini tra cittadini, noi siamo cittadini dentro le istituzioni e voi siete cittadini fuori dalle istituzioni dubitate e diffidate da coloro che ci chiama elettori l'altro giorno Giannini, ma voi i vostri voti in frigorifero a chi li date? come se i voti appartenessero a Caro Sibiria, a Chiara Pendino, a Roberto Fico i voti appartengono a un popolo che deve essere sovrano ed è sempre più sovrano e è sempre meno subito di questi quattro cialtroni che hanno a disposizione appunto la gran parte se no sono così disperati da ricattare la Boschi che fa vili